Il croce è scoperto sull'altare, il suo originale romano che si trova nel dom di Sarzano e mostra che questo blicco di ogni persona. Nel bosco viennese, come si chiama, nel quale esiste la copia, la copia molto ben fatta da un artista di Arcola che si chiama Renato Manfredi, della croce di Mastro Guglielmo. La croce di Mastro Guglielmo è conservata in quello che il Papa chiama il Duomo di Sarzana, l'attuale concattedrale di Santa Maria Assunta, dove è da diversi secoli. La data è il 1138, la più antica tavola linea che richiama la passione e la morte di Nostro Signore. Ma c'è un particolare in più che è bello ricordare proprio in questi giorni in cui Papa Ratzinger ci ha lasciati su questa terra e ha traversato la porta che aspettava di traversare, come aveva egli stesso detto più in più occasioni. Qual è il particolare? È che nel croce fisso di Mastro Guglielmo, conservato a Sarzana, la figura di Cristo è ovviamente la figura di Cristo morente sulla croce, ma il volto è già il volto del risorto. E proprio al volto di Cristo, Christus Triunfans, come dicono gli esperti di storia dell'arte, Cristo Trionfante, faceva riferimento Benedetto in quel discorso tenuto ad Heiligenkreuz. Ma perché c'è lì una copia della croce di Sarzana? Il particolare è curioso perché l'abate di quel monastero benedettino si trovava in viaggio per Roma, si fermò a Sarzana, vide il croce fisso e ne chiese una copia che fu realizzata dall'artista Renato Manfredi. E quella croce è ora conservata, molto ben fatta, però non è l'originale, nel monastero, nella chiesa del monastero della Santa Croce di Vienna. Papa Benedetto sottolineò che l'originale, l'originale romanico, si trova invece a Sarzana. Ripeto, è bello ricordare questo particolare perché lo lega un po' al nostro territorio, alla nostra diocesi, lega questa figura straordinaria di un Papa che ha rinunciato al mandato Petrino, ma non per ritirarsi e basta, ma per dare, come ha detto anche Papa Francesco, una lezione di servizio, una testimonianza di servizio alla Chiesa e al mondo. Allora grazie anche per quelle parole che oggi diventano ancora più vere. Papa Benedetto.